Che dire, benvenuti ad Hogwarts. In questo tutorial sempre legato alla rivista Scuola Italiana Moderna ho voluto fare un passo in avanti rispetto a tutti gli altri tutorial che abbiamo visto andando ad aggiungere un elemento molto interessante della programmazione che sono le liste negli altri linguaggi si chiamano matrici, array, vettori. In Scratch si chiamano liste. Le troviamo sotto variabili. Oltre a poter creare delle classiche variabili possiamo creare le liste. Qual è la differenza fra variabili e lista? La variabile l'abbiamo già usata diverse volte non è altro, come amo definirle quando cerco di spiegare queste cose, non è altro che un contenitore che può contenere solo e soltanto un oggetto per volta. Che oggetto può contenere? Beh, nel nostro caso può contenere un numero, può contenere una parola. Nel caso invece e ogni volta che andiamo a aggiornare, modificare il contenuto viene completamente cancellato quello precedente. Ad esempio nel precedente video che abbiamo dedicato sempre ai nostri tutorial step by step abbiamo creato la variabile tempo e ogni volta che andiamo a sottrarre, a cambiare la variabile tempo di meno uno viene cambiato il valore. In questo gioco basato su i libri di Harry Potter ho utilizzato ad esempio tre variabili. Una si chiama giuste e sbagliate che vediamo visibili che vanno a contare le risposte corrette oppure errate e il numero della domanda che ci serve come contatore per tenere il punto della situazione. Perché? Perché poi ho creato due liste, una che si chiama domande e una che si chiama risposte. Come funzionano le liste? Beh, le liste già dal nome stesso ci dice che è, e sappiamo cos'è una lista, è un insieme di righe. All'interno di queste righe ci sono degli elementi che possono essere numeri oppure può essere testo. Se vi apro ad esempio, vi visualizzo la lista domande vedete come è fatta, ok? Vedete che ci sono al suo interno delle domande e vediamo se riesco ad allargarve eccola qui, va bene, ci basta vederne solo alcune, non è un problema. E dentro ci sono delle, quelle che potrebbero essere delle variabili. Sostanzialmente le liste funzionano in questo modo. Abbiamo un nome che determina come identificare la lista e poi al suo interno abbiamo delle righe. Se vedete le varie righe sono numerate. Queste variabili interne, queste righe della lista, vengono richiamate proprio attraverso questi numeri. Quindi, ad esempio, se noi volessimo richiamare l'elemento 3, la riga 3 di domande, utilizzeremo il blocco all'interno. Vedete che troviamo all'interno qui c'è scritto elemento 1 di domande. Qui dovremmo andare a mettere elemento 3 di domande. Noi, dopo vedremo, utilizzeremo la variabile numero domande per richiamare sempre la stessa domanda e la stessa risposta abbinata. Perché se andiamo a vedere le risposte, le risposte in questo caso sono sempre 5 e sono collegate con le domande. Quindi, ad esempio, vediamo se... le metto fianco e... ecco qui, allarghiamo. Ad esempio, la terza domanda, chi è Bellatrix Lestrange per Sirius Black? La risposta corripondente è sempre la 3, la cugina. Quindi, quando noi andiamo a richiamare gli elementi tra... e dovremo andare a fare un confronto tra domande e risposte, dovremo sempre utilizzare, ad esempio, in questo caso, il numero 3. Quindi, la variabile numero domande ci serve proprio per richiamare la stessa domanda e la stessa risposta per fare i vari test. Allora, qui ho utilizzato un solo personaggio, cioè uno sfondo. Ho cercato di creare una... in questo caso è interessante utilizzare anche un po' di storytelling, quindi creare un po' di storia. Noi, se io clicco sulla bandiera verde, appare quello che ho supposto essere Silente, ho usato un personaggio presente in Scratch. Ogni tanto uso, gioco un po' con i vari costumi. Mi chiede, sai come si chiama questa scuola? E qui c'è una prima domanda. Vedete che sai come si chiama questa scuola? E la risposta, se io vado a metterla corretta, Hogwarts, e dice, ottimo, perfetto. Se avessimo sbagliato, avrei detto, mi spiace, la risposta giusta era Hogwarts. Vuoi metterti alla prova? Andiamo avanti, vedete. Vuoi metterti alla prova? E in questo caso, vedete che c'è un sì, ok? Quindi se rispondo sì, parte un'altra sequenza, adesso vi farò vedere. Altrimenti, se gli dicessi qualsiasi altra cosa, mi direbbe, ok, mi spiace, e si ferma tutto. Noi gli rispondiamo di sì. E inizia, ok, di cosa è fatta la bacchetta di Harry. Allora, come funziona? Vedete che in questo caso gli ho risposto sì, e c'è scritto domande. Cos'è domande? Domande è un miei blocchi. Ho definito in questo caso, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo qui, per non avere una fila interminabile di blocchi, per non avere una fila interminabile di blocchi. Quindi ho preferito dividere il tutto in due parti. Un po' come quando abbiamo utilizzato invia tutti messaggio. In questo caso ho utilizzato invece un'altra tecnica che è la creazione di un blocco. Quindi un mio blocco, una mia funzione, e ho definito, infatti si chiama proprio definisci domande, ho definito il mio blocco. Cosa fa? Ho la gestione delle variabili, vedete, porta numero domande a 1, quindi partirò dalla prima domanda. Porta giuste, porte sbagliate. Qui in realtà avrei potuto già creare le variabili, le liste, scusate, con dentro già le domande, ma qui volevo un po', si tratta pur sempre di un video tutorial, quindi cerco di spiegare come utilizzare i vari blocchi. qui ho due blocchi che si chiamano cancella tutto da domande, cancella tutto da risposte, quindi vedete, cancello tutti gli elementi delle due liste e poi vado ad inserire gli elementi in modo che siano inseriti nel modo corretto. Quindi ho cinque blocchi per le domande e cinque blocchi per le risposte, ok? Stando attento che esattamente di cose fatte la bacchetta di Harry, agrifoglio e una piuma di fenice. Quindi se io qui scrivo agrifoglio e una piuma di fenice, mi dice esatto. Adesso mi chiede che giorno è nato Harry Potter. 31 luglio 1980, così dicono le varie fonti. Qui abbiamo i vari elementi. Allora, ripete, abbiamo una ripetizione cinque volte perché è legato al numero delle domande. Anche qui potremo migliorare ulteriormente perché all'interno dei blocchi per le liste noi possiamo anche contare quanti elementi sono presenti nelle liste. Quindi qui potremo fare delle ripetizioni in base al numero delle domande o delle risposte in modo tale da non dover andare a modificare ogni volta il numero. Ma qui per semplicità ho preferito fare in questo modo. Qui ho i vari passaggi ma quello che interessa a noi sono questi blocchi. Vedete, chiedi elemento numero domande di domande. Adesso la variabile numero domande è a 2 perché siamo partiti dal valore 1. Ok? Siamo partiti dal valore 1. Poi abbiamo posto la domanda se noi rispondiamo correttamente il flusso va avanti e qui sotto cambia numero domande di 1. Quindi adesso siamo al 2. Quindi cosa succede? Viene richiamato l'elemento 2 quindi al posto di numero domande in questo momento del flusso siamo 2 quindi è elemento 2 di domande e attendi e infatti ci viene posta la domanda che giorno è nato Harry Potter. Poi abbiamo un controllo. se risposta è uguale a elemento 2 di risposte allora quindi se la risposta che diamo è uguale alla risposta salvata all'interno della lista al numero 2 allora ci viene data corretta altrimenti ci viene detto che è sbagliata quindi vengono conteggiate o le risposte giuste o sbagliate in base a quello che andiamo a scrivere nel caso della risposta sbagliata in ulteriore cosa che ho fatto è la risposta corretta era quindi do un feedback quindi ad esempio se vado a scrivere ad esempio una data sbagliata è 1 gennaio oi oi vedete mi ha sbagliato la risposta corretta era 31 luglio 1980 e va via con le varie domande poi in base alle domande che in base alle risposte che vado a dare al termine viene detto hai risposto correttamente a unione di giuste e domande quindi non so se rispondo correttamente a 3 domande su 5 mi scriverebbe hai risposto correttamente a 3 domande quello che interessa di questo questo gioco che mi interessava attraverso questo gioco era mostrarvi l'utilizzo delle liste è un un elemento molto molto interessante ho a volte visto che si fa molta fatica a capirlo soprattutto il discorso di richiamare gli elementi e del collegamento vedete vi ripeto le due liste in questo caso devono avere lo stesso numero degli elementi quindi 5 e 5 deve esserci anche corrispondenza tra le varie domande e le varie risposte possibili miglioramenti del gioco tantissimi intanto potremmo farci dire quali sono le risposte giuste e sbagliate quindi qui sotto potremmo dire questo potremmo anche pensare come vi dicevo di aumentare il numero delle domande e delle risposte e quindi qui fare in modo di contare quanti elementi abbiamo nelle domande questi blocchi li ho messi semplicemente per mostrarvi come funzionano le liste ma in realtà come vi dicevo voi potreste tranquillamente creare le vostre liste e mettere all'interno le domande e le risposte un altro elemento interessante potrebbe essere quello di non far non proporre le domande sempre nello stesso ordine qui partendo da già l'elemento liste già l'elemento blocco crea blocco è un elemento nuovo rispetto agli altri nostri video quindi stiamo facendo un ulteriore passo avanti un'ulteriore modifica che si potrebbe fare è appunto non seguire questa logica di partire dalla prima domanda seconda terza quarta e quinta ma seguire una logica invece randomica a caso quindi un numero caso da 1 a 5 andando chiaramente a salvare la domanda che si è posta quindi occorrerebbe ad esempio creare una terza lista dove andiamo con una variabile che abbiamo già numero di domande ogni volta che viene ripetuto facciamo un numero caso da 1 a 5 e andiamo a salvare il numero nella lista se il numero è già presente nella lista continuiamo a estrarre il numero in modo tale che arriviamo a 5 quando raggiungiamo il numero dei 5 elementi delle domande poste ad esempio terminiamo il gioco quindi ci sono sicuramente un sacco di cose da poter fare in questo primo in questo primo utilizzo delle liste ho preferito rimanere su questa su questo flusso ok molto molto più semplice da capire ma chiaramente tutto è perfettibile tutto è migliorabile bene non mi resta che dirvi di provare e modificare sperimentate perché il coding è sperimentazione non è